E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Il terzo gol in campionato di Musabarrow. Approccio alla partita disastroso della Lazio e l'Atalanta riesce a sbloccare il punteggio. 0-1 ha avuto parecchio spazio davanti a sé, Musabarrow riesce a controllare, controlla con il destro, stilettata alle spalle di Stracoscia. E' il gol dell'1-0, va in vantaggio l'Atalanta, clamoroso allo Stadio Olimpico.